Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazingazzetto e bentornati su South Park, il bastone della verità. Ok, avevamo trovato Gesù, ricordo che avevamo trovato Gesù, quindi possiamo uscire dalla chiesa e vediamo un po' cosa fare. Ok, sta puntata, cosa possiamo fare? Allora, quest, vediamo subito, potrei andare a reclutare i dark, che non è male, che non è male, ha un trasformatore elettrico, è questo che non sono ancora riuscito a fare, poi senza tetto, il numero non è qua la quest, siamo in chiesa, quaccia grossa e recluta i dark. Oh, bene, ok, mappa, allora, qui attacca un sensore dell'uomo orso maiale, ok, quindi devo andare qua per mettere un sensore, perfetto. Poi, qui abbiamo caccia grossa, usa la botella di dark del naturalato per attirare qualcosa, oppure possiamo andare a reclutare i dark, che non è male. Qui, torno dal padre per Gesù, vulcaneggiando, sempre caccia grossa e buon morso e caccia grossa e caccia grossa. Ah, il Canada! Uh, il Canada! Spero che ci sarà una bella quest per il Canada. Allora, no, direi di andare alla scuola, dai dark. Tanto, passiamo di qui, di qua ci sono mai stato? C'è qualcosa qui? C'è qualcosa, e c'è anche una bambina, quindi no, non c'ero stato. Bimba, l'ho trovato. Saresti morta. Così, eh. Bambini, 4 su 6, vabbè, stiamo procedendo bene. Cosa vedono le mie fosche pupille? Bene. Avete visto anche voi, ragazzi? Qua mettiamo il sensore. Laggiù c'è una sonda da culo. Bezzat e Bezzat. Cinpo come on! Cosmo titrone. Top a circuito, adesso. Hop, hop. Se voilà! Allora, abbiamo trovato una toppa nuova. Vediamo un po'. Perché non ce l'ho? Sto già perdendo un po' di toppe. Ah no, è qua. Infliggi 10% danni da shock. Sulle armature? Carino, carino. Questo? Spine. I nemici che attaccano corpo a corpo subiscono 10 danni, ok? E l'anello cos'ha? Gli attacchano armi corpo a corpo e infiggono 10 danni di più. Infliggi 10% danni da shock. Però devo già farli danni da shock, mi pare di capire. No, no, no. Teniamo così. Stiamo così. Stiamo in pace. E... Di qua si va alla scuola. Ho un senso all'orientamento, ragazzi, che... Mamma mia, fatemi passare. Allora, i Dark, da esperienze di South Park, dal cartone, sono qua di solito. Mi sembra di averli anche già trovati nel gioco, forse. Forse no. Non mi ricordo. Ah, guardateli. Che... Che bei soggetti. Ok, parliamo. Al capo, ovviamente. Giustamente non parliamo. Oh, dio. Oddio. Ah, sì. Sì. Perfetto. Oddio. Devo vestirmi come un got. Bene. Bene. Mi piace molto la cosa. Perfetto. Allora. Mappa. Qua c'è sempre Caccia Grossa, ma non ho idea di dove sia. Allora, qui, vulcaneggiando. Potremmo andare tutto a destra e a prendere vulcaneggiando. Caccia Grossa, trova Gesù, vulcaneggiando. E, però, tutte le missioni sono laggiù. Sono qui. Anticonformista, anticonformista, anticonformista. Ok. Quindi andiamo là. Con l'altro... Con Timmy. Dove sei? Possibile che qui non abbia sbloccato niente? Vabbè, andiamo qua. Tadè! Andiamo qua. E adesso andiamo a destra. Caffè, sigarette, vestiti dalla Dark. Ok. Bene. Trombino e Pompidou. Al Gore. Ah, no, ci abbiamo già parlato in Al Gore. Ah, caffè. Così, eh. Dovendo andare a naso, direi che ce l'hanno da Twink. Così, eh. Se proprio devo attivare tutti i miei sensi di ragno... Oh, figurati. Come è tutto così... Solare. Ah, e poi vieni... Michelle Oscura, dei fratelli di Twink. Una lì che Michelle è di caffè per riempire l'atroce vuoto della tua anima provocata a tutti quei cazzo di hipster. È questa, Michelle Oscura. Oggiata dalla quest. È un caffè per i gotti, infatti, immagini... Oddio. Ma sta minchia. No, io voglio combattere. Ecco, dai. Fatevi sotto. E vi spacco tutti. Sono qua. Dai. Potrei, eh. Potrei. Posso fare, non sono boss. Ok, ragazzi. Potremmo evocare il signor Kim adesso, anche, oltre Mr. Enki. Vai, gong in miniatura. Pronti? Kimchi. Sposto. Bello. È bellissimo, ragazzi. Voilà. Abbiamo vinto. Ah, succa. Ma no! Ma no! Ma abbiamo vinto! Questo non è giusto. Chiamo bullshit qua, ragazzi. Chiamo bullshit. Non è giusto. Avevo vinto. Avevo vinto. Avevo vinto. Uffa. Oh, cazzo. Ma quanti sono? Cioè, noi siamo in quattro sfigati? Sì, qua sono in 16.000. Vabbè. Ok. È ovviamente. Kyle. Ok. Kyle. Un corvo di Twitter. Oddio. 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 the she ogre si 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 contro un ogre volentieri te cosa mi dici invece a flute ci credo ok si si oh bene sub quest degli altri personaggi oh bene popi popi ok ah si giusto ok quindi un'altra quest madonna ragazzi quanta roba stanno trovando allora qui freccia pozione top a fedeltà elfica poi qua sopra c'è qualcosa da fare qui no vai da stan no non c'è niente da fare ok uh saliamo di livello intanto abilità fatto roteante fa rimbalzare a caso il tuo dreidel tra i nemici preparandovi tutti gli effetti siano positivi quando veni colpiti mi piace mi piace molto te invece la circonciusciabola ora infligge un malto di difesa vai benefici no ancora no ok uh lo voglio provare fatto roteante eh dovrebbe essere tipo la trottola quella eh adesso le cose delibere io non me ne ricordo bene un negozio tra l'altro la stessa animazione che fa il negozio dell'altro eh armi cos'hai lama elfica lama del razziatore bella il fatto che qualcuno sia costretto a usare una spada di compensato spiega il bisogno di razzie bellissima spada dei finali uh arco lungo anteprima eh fa meno del mio però si fa meno del mio lama del razziatore invece è più forte come la lama elfica lama del razziatore vai strumentario no no strumentario voglio solo quello che trovo lama del razziatore ah togliamo la toppa intanto togli lama del razziatore eccola qui bella che fergato lo spreco alla fine inizia a vomitare non può essere guarito oddio non mi sembra neanche così tanto però è bellissima sta spada non la posso ancora usare questa questa si questa si questo si questo si questo si allora aggiunge quindi il danno da shocking questo danno perfetto aggiunge 15 danni con attacco perfetto questo qui non è un'arma elementale ma dovrebbe fare un male fottuto adesso ok quindi quale cacchio non mi ricordo più ah eccolo qui perché non posso armi ah perché sono qui dentro ok quindi usciamo e eccolo qui k non è k oh p no voglio stan e ci andiamo a fare la quest di stan spero di avere abbastanza tempo tanto giattiamo tutto quello che c'è qui ok uh siamo i brei tra l'altro drey drey eccolo lì drey 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 del eccolo lì c'era giustamente loro ce l'hanno il drey del bocco l'ortodosso mi sembra di averceli già poi qui con tanti chiavi del garage documenti documenti d'adozione canadesi segreti parrucca barbarica mi piace un frego chiave del garage quindi possiamo entrare nel garage adesso ottimo bagno lo so avevo promesso ragazzi ma cerco di velocizzare la cosa allora notande notande ah 3 su 5 ok devo trovare ancora 2 quindi ok 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 poi armadio pieno di tutto delle robe del cartone esatto come al solito e no vabbè lo devo fare lo devo fare lo devo fare ok tanto qua comunque c'era c'era della roba quindi sempre meglio prendere tutto e bagno forza ecco qui crocchetta perfetto la signora Enki mi ha scritto qualcosa cosa vuole? ho due nove amici e se vendi qualche pasticca fammelo sapere oddio ok quindi adesso usciamo e andiamo di corsa non inizio di quanto tempo sia passato dall'inizio della registrazione perché mi dimentico sempre di far partire un cronometro o qualcosa del genere oh ciao Gerald è tipo una vabbè una cosa degli alieni garage non c'è un cazzo ah no c'è questo baule gigante basettoni di kyle piccolo magnete piccolo magnete a cosa serve? qui? si no qui coberto di ghiaccio vai la facciamo elementale di nuovo ci ho messo poco eh comunque allora ottieni 20% di soldi in più aumenta i massimi no 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 soldi in più ne abbiamo già schifo di soldi non ne servono di più allora dov'è la casa del tipo? ah è qua a fianco quindi subito casa di Marsh andiamo battiamo l'orchessa che chi è? non ho capito chi sia tanto finiamo esploriamo anche qui pozione della salute che è una torta suonatore del flauto di pan ok basta perfetto andiamo su ok va bene Stan dai non sarà mica così pericoloso ho un'idea su chi possa essere l'orchestra chi? è veramente questi altre mutande ok questi sono i momenti in cui mi rimpiango tantissimo di non aver visto tipo tutto South Park perché per solo nell'armadio deve essere qualcuno nella trama di South Park e io non la conosco esatto the shiogger è la sorella immagino sia la sorella eh sì oddio perfetto perfetto shiogger non posso usare le vocazioni posso usarle? no però no faccio un combattimento faccio no ah il raidel fatto il rotevante lo provo a usare dopo così magari le si buffa e io gli tolgo gli effetti tranquillo circolci sciavola non dovrebbe funzionare sull'orchestra ma non credo che siano così precisi proviamo no invece no invece funziona adesso Stan che poteri hai? disco della possenza lancia un disco letale al bersaglio il disco può controllare gli attacchi vortici di lame Stan esegue un attacco rotinante con la spada e colpisce diversi nemici poi condannato a morte traduci non so cosa faccia proviamo così ah ah malos difesa per due gli fa un po' di danno ok no probabilmente per uno però per due perché c'avevo già il mio disco della possenza perché questo qua fa danno a tutti poi ne posso dare più di uno ID e pulsante sinistro ok c'è un frisbee gli tiri un frisbee rabbia mensile ahahahah 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 infatti gli ho aumentato sanguinamento non so se avete notato questa perla speriamo ripetutamente ID per potenza dentro Drey dai fatto rateante mazenthof condannato a morte di nuovo dovremmo basargli ancora la difesa credo da quello che ho capito eh tanto è esatto tanto è un'azione gratuita che posso fare sempre disco della possanza 311 adesso che fai no che schifo che schifo che schifo non commento non commento quello che ha fatto non commento quello che ha fatto mi sto sentendo male ok la morte rossa ah ok sono botte in pratica le ho prese tutte praticamente le botte che mi hai dato allora oggetti devo riprendermi vita devo riprendermi vita assolutamente pozione della salute grande si Stan la uso poi con te tranquillo adesso circoncisciama non la posso più usare invece potrei usare il judeojitsu che la stordisce però fa un po' vedere eh esatto e immune allo stordimento eh infatti quindi eh bottiglia lama del razzettore proviamola uno due tre eh dai mi ha fatto male mi hanno tolto metà vita fino adesso non sono più cappolo mi sono già ripreso cos'hai Stan no Stan mouse difesa più cinque urca vacca eh però morirebbe lo devo curare per forza non posso non posso togliere lo status di Malus lo devo curare adesso spada proprio un combattimento possente questo eh no cioè sono riuscito a farmi prendere tutti e due gli attacchi sono proprio bravo oggetti pozione della salute dove cacchio sei qua perfetto eh adesso fiorno di Davide pronti bam ho fatto un sacco di vita Stan acqua ce l'abbiamo no dovremmo essere pieni d'acqua pozione di cura usa perfetto debuff rimossi ok ok spada è pesante come come scontro eh uh bene l'ho rallentata col ghiaccio e quindi schippa un turno bottiglia rotta sanguinante a bestia l'ho anche schifata bene condannata a morte ok in più essendo un ranger Stan dovrebbe quello dovrebbe essere tipo il suo compagno animale dovresti fare tipo d'angels and dragons oh niente non non riesco a calcolare gli attacchi di sta qua ah 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 siamo troppo forti per te clona di Davide forza pam 927 malo sull'attacco condannata a morte forza Stan forza Stan mamma mia quanto sta durando sta battaglia ragazzi penso che sia la più difficile che abbiamo fatto finora spada pam il prossimo mutuo dovrebbe morire ok lama del razziatore 1 2 3 morta vai vierei che spacchiamo hai ragione Stan abbiamo picchiato a sangue sua sorella ok ogre slayer ok prima di finire l'episodio finiamo l'esplorazione della casa di Stan almeno di qua ok ah un messaggio ah tanto ho un nuovo amico allora che se non c'è più tutti gli elfi possono di nuovo muoversi con la sicurezza per la tele di Larnion ok qui sotto ci sono i suoi genitori quindi credo si esatto scrollatore con tanti poi la spada delle mille verità devo leggere cosa della spada delle mille verità mutande oh ce l'ho tutte quindi dovresti che ce l'ho tutte la spada delle mille verità no battiglia rotta braccialetto risten chiavetta collage di pasta collana documenti drey dell'elsa evidenziatore oh cacchio dove può essere eccolo qui spada delle mille verità quest'arma un tempo leggendario è stato successo da questo progetto una espansione boh magari sono io che non riesco a vedere da qua che cos'è però sicuramente non è qualcosa di carino e gentile ok via bagno e poi finiamo qua stan vediamo se riesco a batterlo vai forza vai ok perfetto adesso usciamo così salva anche in automatico e direi che ci salutiamo qua ok adesso abbiamo di aiuto anche gli elfi che non è male che chi sei? ah ma veramente posso posso spararti ok salviamo anche se ha salvato in automatico io per essere sicuro ok ragazzi anche per questa settimana da south park è tutto commentate se volete che faccia qualcosa in particolare se volete che vado in un'area adesso che faccio una missione secondaria ditemelo così faccio quella perché se no vado avanti così a randa come mi gira in questo momento ok quindi ci vediamo la settimana prossima ciao ragazzi ciao